Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in entrambe le direzioni. In direzione Roma per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Sulla Fipili per lavori tre chilometri di coda tra Ginestra, Fiorentina e Lastra a Signa in direzione Firenze. Sulla A12 per lavori code tra Carrara e Versilia in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale due Cassia fino al 9 aprile per lavori è chiuso lo svincolo di Montalcino in ingresso e uscita in direzione Siena. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!